E' salito a 15 il bilancio delle vittime all'interno della RSA Donorione di Avezzano, che da due settimane ne è la morsa del coronavirus che ha contagiato 85 pazienti e 17 fra medici e paramedici, trasformandola in un vero e proprio reparto Covid. Gli ultimi giorni hanno fatto registrare un aumento progressivo dei decessi, nelle ultime 24 ore ce ne sono stati altri due, mentre restano stabili le condizioni degli altri ospiti, 35 risultati negative ai test che sono in isolamento al terzo piano della struttura. Mentre alcuni familiari delle vittime annunciano denunce in procura, una informativa sarebbe stata consegnata dal NAS di Pescara alla procura di Avezzano, anche se il direttore della struttura, Don Vittorio 40, nega l'arrivo dei carabinieri nella RSA. Non abbiamo mai avuto questa visita. Ce l'aspettiamo magari che forse dopo l'emergenza verranno per qualche controllo o qualche cosa. Penso siano normali procedure, non me ne intendo. Però fino adesso non abbiamo avuto nessuna visita di questo genere. È un lungo cammino ancora che dobbiamo fare. L'importante è arrivare alla meta. Come mi piace dire sempre in questi giorni, abbiamo vissuto il venerdì santo. Ora stiamo vivendo il sabato santo, che è il tempo dell'attesa. Arriverà sta domenica di Pasqua. Inoltre la struttura da giorni è stata commissariata dal sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, e il Dipartimento di Prevenzione dell'Asla Aquilana ha ordinato che la consulenza medica venga effettuata esclusivamente dai medici dell'ospedale. La residenza è stata resa inaccessibile, mentre molti si interrogano su come sia stato possibile lo sviluppo di un così ampio focolaio, vista anche l'esperienza pregressa della primavera. Domanda questa, assieme ad altre, che approderà anche all'interno del Consiglio regionale, con una interrogazione presentata dal consigliere del Partito Democratico, Silvio Paolucci. La provincia dell'Aquila, insomma, è pesantemente colpita da questa ondata di Covid. 101 i posti letto occupati nei reparti degli ospedali dell'Aquila e Avezzano, un numero molto più alto di marzo-aprile, quando l'Aquilano era stato pressoché risparmiato dal contagio. L'Asl sta lavorando per riconvertire altri reparti al fine di reperire nuovi posti letto. Secondo quanto si è appreso da fonti sanitarie, ce n'è assoluta necessità, a causa dei tanti positivi, anche gravi, che si presentano ai pronto soccorso. Situazione altrettanto seria nel Terramano, dove nelle ultime 24 ore ci sono stati 149 nuovi contagi. L'Asl provinciale ha varato il primo bando per la riconversione dell'ex sanatorio in reparto Covid da 21 posti ed iniziative simili sono state messe in campo dalle altre Asl, mentre il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha chiesto al Premier semplificazioni per i lavori negli ospedali, da discutere nel Consiglio dei Ministri di oggi. Ma anche perché c'è ormai...